È importante non avere troppo progesterone in fase follicolare e soprattutto non avere troppo progesterone alla fine della stimolazione perché si è visto, e questo è uno studio ma ce ne sono vari negli ultimi anni in letteratura, che se noi ci manteniamo al di sotto circa di 1,5 nanogrammi millilitro di progesterone prima della somministrazione dell'HCG ci sono dei tassi di gravidanza molto buoni, ci sono quasi 4.000 cicli che ha riportato il dottor Bosch dell'Ivi all'escere un paio di anni fa, se noi andiamo al di sopra di questa soglia i tassi di gravidanza, parliamo ripeto di dati molto robusti perché legati a molti cicli, i tassi di gravidanza cominciano a calare, quindi è importantissimo nel monitoraggio guardare anche il progesterone alla fine della stimolazione per decidere poi che cosa fare. Ora, vi dicevo che questo concetto dell'FSH che stimola il progesterone piuttosto che l'LH è un po' iconoclastico perché fino a poco tempo fa si era sempre pensato ma il progesterone è stimolato dall'LH o dall'HCG e viene dalle cellule della teca. Ora, vediamo un attimo di passare rapidamente in rivista la steroidogenesi per capire perché invece è un fenomeno legato all'FSH. Allora, queste sono le cellule della teca che contengono, naturalmente sono stimolate dall'LH o dall'HCG, producono colesterolo che si trasformano in pregnenolone, progesterone, androgeni, poi ovviamente la steroidogenesi si blocca qua perché le cellule della teca non hanno il sistema aromatagico, quindi non possono convertire gli androgeni in estrogeni, quindi gli androgeni vengono liberati nel circolo periferico oppure vanno nel resto dell'ovaio ed in particolare nelle cellule della granulosa. Le cellule della granulosa stimolate principalmente dall'FSH ma nella fase luteale tardiva anche dall'attività LH hanno più o meno lo stesso patrimonio steroidogenetico per cui partono anche loro dal colesterolo, progeniolone, ma quando arriviamo al progesterone, questo progesterone non si può trasformare in androgeni perché manca il sistema enzimatico che permette questa trasformazione, quindi cosa succede al progesterone? Va a finire nelle cellule della teca e contribuisce al substrato che può poi essere utilizzato per formare androgeni oppure viene liberato nella circolazione periferica. Poi naturalmente gli androgeni ritornano e vengono trasformati in estrogeni e anche questi vengono liberati nel circolo. Però a causa di questo blocco enzimatico che noi abbiamo nelle cellule della granulosa, più noi stimoliamo le cellule della granulosa e più progesterone abbiamo a disposizione nel circolo periferico. Spiegato quindi questo busillis della scarsa, della grande efficacia dell'FSH nello stimolare il progesterone. Vi volevo far vedere un dato di questo studio che abbiamo pubblicato nel 2005 appunto in cui abbiamo in un gruppo di pazienti dato essenzialmente FSH, in un gruppo dato FSH, poi fatto quello che vi ho mostrato prima, cioè stoppato, interrotto l'FSH e dato solo HCG, cioè solo attività LH, fino al momento del prelievo vocitario. In particolare vi volevo far vedere i livelli intra follicolari, quindi queste sono misurazioni nel liquido follicolare, di steroidi e gonadotropine. Questi sono FSH e HCG e come vi potete aspettare dal protocollo, naturalmente in questo gruppo, questo rosso, che sono le pazienti che hanno ricevuto solo FSH e non HCG al termine del ciclo, vedete in queste pazienti rosse abbiamo nel liquido follicolare più FSH e meno HCG e, d'altra parte, nelle pazienti che negli ultimi giorni hanno ricevuto solo HCG e non FSH, più HCG e meno FSH. Questo è logico e tutti ce lo potremmo attendere. Quello che è interessante è se andiamo a guardare il rapporto tra progesterone ed estradiolo e vediamo che, appunto, le pazienti che avevano ricevuto FSH fino alla fine della stimolazione hanno una quantità di rapporto progesterone-estradiolo, quindi una quantità di progesterone superiore rispetto alle pazienti che hanno ricevuto invece l'HCG, tra l'altro a dosi molto sostanziose, 200 unità che voi sapete corrispondono a 1200-1400 unità di LH, quindi parliamo di tanto LH negli ultimi giorni della stimolazione. Quindi questa è veramente una dimostrazione incontrovertibile del fatto che questo progesterone che noi troviamo è in relazione all'FSH e non all'LH o all'HCG. Bene, e quindi che cos'è l'utilizzazione prematura? È una noma l'accelerazione della maturazione endometriale dovuta a che cosa provoca questa accelerazione della maturazione endometriale e probabilmente dovuta all'FSH, cosa può causare una riduzione della capacità di impianto degli embrioni? Sono possibili danni alla qualità embrionaria? No, e questo si è visto nei programmi di donazione ovocitaria, perché se noi abbiamo delle pazienti in cui c'è stato questo aumento di progesterone in fase follicolare, ma prendiamo gli ovociti e li utilizziamo in altre donne in cui non c'è stata la stimolazione, questi ovociti danno origine a degli embrioni di ottima qualità con tassi di gravidanza molto elevate. Quindi il problema è proprio un problema dell'endometrio, non è un problema a carico dell'embrione e come prevenirlo? Abbiamo visto ridurre l'FSH alla fine della stimolazione e sostituirlo con attività LH e se le cose sono proprio messe molto male, quello che si può fare è eventualmente congelare gli ovociti e o gli embrioni, finire e non fare il transfert in quel ciclo e farlo invece in un secondo momento ricostruendo il ciclo con estroprogestinici esogeni. Bene, novalità legislative. Allora, voi tutti, tutti quelli che si occupano un pochino di fecondazione assistita, ricorderanno molto bene quali sono i tratti salienti della legge 40, ad esempio l'articolo 13 che vieta ogni forma di selezione embrionaria a scopo eugenetico ad eccezione degli interventi a venti finalità diagnostiche terapeutiche, le linee guida, perché noi parliamo sempre di legge 40 ma dimentichiamo tra l'ora che ci sono anche delle linee guida, linee guida che sono state pubblicate all'estate del 2004 che diciamo da un certo punto di vista sono ancora più restrittive, ad esempio indicando che ogni intervento sull'embrione deve essere di tipo osservazionale, perché tutto sommato qui si lasciava un po' di spazio aperto alla possibilità di pensare a fare un diagnosi preimpianto, ma in questo modo naturalmente la porta si chiudeva. L'articolo 14 che vietava la chioconservazione e la soppressione degli embrioni, che impioneva la formazione di un numero massimo di tre embrioni e il fatto che questo era un dato che già indicava una possibile via d'uscita, cioè quando non era possibile, perché aveva documentata le cause di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, il transfer, questo lo si doveva fare immediatamente, appena possibile, in un ciclo seguente. Quindi diciamo anche nella legge 40 si prevedeva la possibilità in caso di emergenza di congelare gli embrioni e trasferirli in un secondo momento. Ora questa legge e le linee guida sono, come voi sapete, state attaccate abbastanza rapidamente, sia dai medici e gli operatori della fecondazione assistita, ma anche a livello legale e in vari tribunali. Innanzitutto, tribunali ordinari e TAR, e sono state molto importanti queste sentenze, questa del Tribunale di Cagliari, che indica la liceità della diagnosi preimpianto e come il diagnosi preimpianto sia strumentale all'accertamento di eventuali malattie dell'embrione, quindi una tecnica molto importante, e questa sentenza del TAR che annullava la parte delle linee guida del 2004, in particolare quella parte in cui si stabiliva che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni, creato in vitro, dovesse essere solo di tipo osservazionale. Per cui già il Ministero, che aveva cambiato colore politico nel frattempo nel 2008, modifica la linee guida, elimina queste scritte in rosso, e quindi in pratica elimina questo concetto che, diciamo, si può solo avere un intervento osservazionale e non interventistico. Quindi apriva questa modifica, queste sentenze, la strada alla diagnosi preimpianto, però in realtà, fino a quel momento, la diagnosi preimpianto non era possibile per ragioni pratiche, perché come si fa a fare una diagnosi preimpianto su solo tre embrioni? E quindi, fin tanto che c'era questa limitazione, questa restrizione, la diagnosi preimpianto non era praticamente possibile. Altra linea d'attacco, ordinanza del Tribunale di Firenze dell'agosto del 2008, che solliva una cosa molto importante, cioè una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14,2, quindi quello relativo ai numeri degli embrioni, all'articolo 14,3 e anche altre cose, all'articolo 6,3 e all'articolo 14 in generale. Cioè tutta una serie di cose, per esempio la revoca del consenso alla procreazione medicalmente assistita dopo la fertilizzazione degli ovociti e il divieto della riduzione embrionaria. Ora, la Corte Costituzionale, alla fine di marzo dell'anno scorso, che cosa ha sentenziato? Allora, innanzitutto ha dichiarato illegittime l'articolo 14,2 per quanto riguarda l'unico e contemporaneo impianto di non più di tre embrioni. E l'altra cosa che ha modificato è il fatto di dover trasferire gli embrioni immediatamente e senza pregiudizio della salute della donna. Cioè, fino a quel momento noi teoricamente eravamo obbligati a un trasferimento 4. Se la paziente avesse detto, no, io non voglio il trasferimento di questi embrioni perché ho paura di essere a rischio di qualche problema clinico, ho paura che questi embrioni siano malati, oppure so che questi embrioni sono malati, noi avremmo dovuto obbligarla comunque forzatamente al trasferimento. Ma la sentenza contiene anche alcune altre cose, cioè, diciamo che non ha accettato altre richieste dei tribunali ordinari, cioè quelle relative, cioè ha confermato essenzialmente il divieto di crioconservazione e di soppressione degli embrioni e il discorso della revoca del consenso dell'EPMA dopo l'avvenuta fecondazione degli embrioni e il ricorso della riduzione embrionaria. Ora, quali sono gli eventi che possono portare a pregiudizi per la salute psicofisica della donna nel corso di PMA? Noi tutti le conosciamo, ma passiamoli rapidamente in segna. La sindrome di ipertimolazione ovarica, che era comunque già prevista nella legge 40, quindi se la paziente era ricca di ipertimolazione effettivamente si poteva congelare, ma anche la possibilità di concepire embrioni affetti da gravi patologie genetiche, la gravidanza gemellare, che soprattutto in certe condizioni, aumenta i rischi di immobilità e mortalità materna e fetale, i rischi e disagi connessi alle stimolazioni ovariche ripetute, le problematiche psicologiche ed economiche relative alle complicanze e ai fallimenti delle procedure di PMA. Quindi la Corte Costituzionale, se voi leggete la sentenza molto interessante, ci dice, un po' riallacciandoci alla legge 194, che dobbiamo non solo pensare alla salute fisica esclusiva della donna, ma anche tutta una serie di considerazioni, sia di tipo psicologico che economico. Quindi l'effetto della sentenza, qual è il dato? Che abbiamo eliminato il limite relativo al numero di embrioni, che abbiamo eliminato la necessità di impianto di trasferimento unico e contemporaneo degli embrioni ottenuti, la raccomandazione che il trasferimento da realizzare, d'accordo appena possibile, ma non possa essere fatto senza tenere presente possibili pregiudizi della salute della donna e con collegamento con la 194, sia quella fisica che mentale, però contiene anche delle contraddizioni, perché reitera il divieto di crioconservazione degli embrioni che sono stati creati in eccesso e della riduzione embrionaria, che è questo in palettine del contrasto con la raccomandazione di Tultera della salute psicofisica della donna. Ora, le cose non si sono fermate alla sentenza della Corte Costituzionale, ci sono state almeno altre due sentenze estremamente importanti di tribunali ordinarie. La prima del Tribunale di Bologna, relativa alla diagnosi per impianto, che quindi ha reiterato il fatto che la diagnosi per impianto sia una cosa fattibile, questa era una paziente portatrice di distrofia muscolare di Duchenne, che aveva già trasmesso a un figlio nel 1999, e qual è la sentenza del Tribunale di Bologna? Che si debba fare la diagnosi per impianto in un numero minimo di sei embrioni, quindi vedete finalmente il superamento del limite dei tre embrioni.